ciao a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale siamo ormai quasi a fine ottobre quindi ormai l'autunno è iniziato da un bel po e quindi ho pensato di decorare questa settimana con i colori dell'autunno inizio subito a decorare la settimana con un washi tape viola e poi inizio a scrivere gli appuntamenti della settimana e quindi iniziamo da lunedì con il tirocinio che inizierà alle ore 9 poi inserisco degli altri sticker che ho stampato e ritagliato in base alla mia dimensione e andiamo avanti a segnarmi come ormai già sapete i film e le serie tv che seguono in televisione durante la settimana ho deciso di utilizzare una nuova forma di leggenda se così si può dire e quindi utilizzo questi pallini che ho comprato continuo a scrivere gli appuntamenti della settimana e poi mi segno appunto sempre con questa nuova leggenda i video che vado a caricare il giorno che li vado a caricare e poi con i pennorelli bellissimi nuovi di tiger e vado a decorare con delle stelle e con dei fiori subito dopo man mano che mi ricordo gli appuntamenti e le cose che ho da fare le inserisco con la penna sempre cancellabile e poi vado a decorare con il normografo che mi è arrivato da bon pretty store che adoro e appunto vado anche a colorarlo ogni tanto mi ricordo delle cose che ho da fare e le inserisco uso questo timbrino per decorare il lunedì sera e poi degli sticker fatti apposta che vanno di più ancora a rendere l'idea di quello che andrò a fare mercoledì se tutto va bene faccio il cambio di stagione quindi mamma mia e quindi poi metto uno sticker che ha a che fare appunto con l'idea di quello che devo fare questi sono degli sticker che stampano da sempre da pinterest attimo tunnale li ritaglio e li potrei incollare con lo scotch biadesivo negli spazi che mi rendo conto che rimangono vuoti e Musica Una volta fatto questo continuo a decorare anche la seconda parte della settimana che per adesso è vuota come appuntamenti poi lo inserirò man mano durante la settimana e continuo a decorarla con gli sticker che ho tampato la domenica come un po' per tutti spero è un giorno di relax e quindi lo scrivo e poi vado sempre a riempire gli spazi vuoti con altri sticker Quindi niente ragazzi questa è la mia settimana spero che vi sia piaciuta mi raccomando poterlo sapere con tanti like se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi io come sempre vi mando un grosso bacio e ci vediamo giovedì con un altro video ciao